Dopo parecchi mesi c'è ancora lui al suo fianco, Simone. Angelica Livraghi, ex GFina Doc, ha finalmente trovato l'uomo giusto per lei. Sembrava quasi impossibile dopo la brusca rottura con l'ex tronista Grauco Dolci. Eppure Cupido è sempre dietro l'angolo. La bionda e il suo lui hanno partecipato a un evento mondano benefico a Roma. A teatro tanta sintonia e sorrisi per i flash. In un'intervista rilasciata lo scorso maggio a Bisto, Angelica aveva svelato...